Flavio Briatore sta per decidere chi eliminare. Perché non dovrei licenziarti a sto punto? Ti puoi alzare? La spending review è per gli italiani, non per i balanzi pubblici. Anzi voglio dirvi una cosa, a nome di tutti i giovani italiani, a questa maggioranza, ti avete rotto i coglioni! Se sei arrogante sei fuori, se sei un cretino sei fuori, se fai troppa teoria sei fuori. Mi spiace.